Voglia di stare insieme, di socializzare e condividere. Grande successo per l'apertura della Sagra Madonna di Lourdes a Campagna Alta nel comune di San Martino di Lupari in provincia di Padova. Organizzata dall'Associazione Campagna Alta insieme con il patrocinio della città di San Martino di Lupari, ha richiamato un grande successo di pubblico nei primi giorni di apertura. Un successo che consolida l'attività di decine di volontari che dedicano il loro tempo con passione e impegno a portare avanti le tradizioni del territorio. Una cucina impeccabile con i sapori della buona tavola funziona fino alle 22.30. Un ampio parcheggio esterno con la presenza dei volontari che indirizzano le auto permette di gestire l'afflusso in maniera fluida e ordinata. Le serate danzanti fino alla fine di febbraio vedono salire sul palco un cast di eccellenza con le migliori orchestre di musica da ballo in diretta su Telecittà. Oltre al grande risultato in termini di presenze sul posto, le prime serate hanno già fatto un record di ascolti televisivi. Ogni diretta è visibile anche sulla pagina Facebook di Telecittà con un successo di condivisioni e con un seguito che fa ben comprendere la voglia di spensieratezza delle persone dopo anni difficili, momenti fondamentali che aiutano a mantenere le tradizioni e che fanno bene al territorio.